Grande appuntamento per il cenone di San Silvestro presso il ristorante Elisium ad Agropoli, buon cibo e divertimento assicurato, ricco il menù previsto con aperitivo in terrazza, inoltre la serata sarà alietata dalla musica dei Maiutiche, previsto anche un grande spettacolo pirotecnico e DJ in terrazza. Per info e prenotazioni è possibile chiamare al numero 334 24 64 701.